Il sere Io voglio essere amata per quella che sono O apparire Bello vuole bello Cosa conta di più nella tua vita? Avevi ragione io Ehi Luca Cristiana Capotondi Le scarpe fanno male Più di quando lui si vergogna di te? Nicolas Vaporidis Solo cercare di capirti un po' E Cristiana Capotondi È pazzesco sei bellissima Guarda che io sono sempre io Come tu mi vuoi Lunedì alle 21 in prima visione su Sky Cinema 1